Una delle battaglie principali che l'Associazione Colcioni conduce da anni riguarda proprio la libertà di ricerca scientifica. Proprio per la sua stessa natura, la ricerca scientifica deve essere libera di esplorare tutte le strade possibili e portarci a nuove conoscenze. Conoscenze che a loro volta potranno essere utilizzate per sviluppare delle nuove terapie per malattie che oggi non hanno una cura e che compromettono gravemente la salute, la qualità della vita e la vita stessa dei pazienti. Una delle più grandi speranze della medicina di questi anni è rappresentata dalle cellule staminali le quali promettono e queste promesse in qualche caso sono state mantenute cure per malattie che altrimenti non sono curabili. Basti pensare al trapianto di midollo, basti pensare all'autotrapianto di epidermide nei grandi ustionati e alla cura delle immunodeficienze congente. Si allunga ogni giorno il numero di malattie che le cellule staminali possono curare ma quelle che rimangono da curare sono ancora infinitamente di più di quelle che oggi riusciamo a curare e per arrivare a questo bisogna poter esplorare tutte le strade possibili, come dicevo prima, comprese le cellule staminali embrionali. Esistono cellule staminali che possiamo derivare dai tessuti adulti e cellule staminali che possiamo derivare dagli embrioni. L'associazione Coscioni da anni si batte perché tutte queste strade siano perseguite, mentre esiste una legislazione restrittiva in Italia che rende molto difficile, se non impossibile, utilizzare le staminali embrionali. Questa battaglia dell'associazione Coscioni è possibile soltanto con il vostro contributo. Dare il 5 per 1000, che implica soltanto una firma sulla vostra dichiarazione dei redditi, di fatto significa aiutare l'associazione Coscioni a portare avanti questa, come le tante altre battaglie per la difesa dei diritti del cittadino che questa associazione porta avanti da tanti anni. Grazie a tutti.